Il pericolo è un qualcosa che soprattutto sull'acqua, sull'idraulica, non ci sa questa sensibilità come abbiamo per esempio a confronti del fuoco, quindi il pericolo. E quindi questo è un modo per far percepire che c'è effettivamente una situazione di pericolo. Con semaforo rosso lampeggiante sotto via allagato, in questi giorni la comune di Arezzo ha infatti installato questi cartelli luminosi che si accenderanno e lampeggeranno ogni volta che l'acqua inizierà a salire. Sono dei rilevatori sostanzialmente di altezza d'acqua che quando l'altezza d'acqua supera un certo livello nel sottopasso si aziona un semaforo rosso lampeggiante che avverte il cittadino ignaro della condizione di pericolo. Nello stesso tempo il sistema è dotato anche di un collegamento GSM di natura di telefonio che avvisa direttamente la stazione di polizia municipale e quindi per l'intervento immediato. I semafori eviteranno così agli automobilisti di finire sott'acqua con l'auto in panne come è successo solamente qualche giorno fa. In via Alia Mendola si era anche reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che avevano soccorso una donna rimasta bloccata nell'auto. Per ora li abbiamo installati su tre sottopassi che sono via Veneto, via Arno e l'Exlebole ma sicuramente visti la frequenza di questi fenomeni sicuramente se funzionano lo installeremo su tutti i sottopassi diciamo del nostro territorio. Ovviamente adesso saranno necessari anche interventi capaci di arginare alla radice il problema degli allagamenti che torna a ripetersi ogni violento temporale. Sicuramente c'è un problema sul sistema fognario in varie parti della nostra città e qui insieme all'assessore a lavori pubblici l'ingegner Casi ha intenzione di proseguire anche il lavoro di precedente vice sindaco e quindi di mettere in campo ovviamente un sistema di ripulitura di tutto il sistema, una ripulitura sistematica andando a individuare quelle zone ovviamente che sono più in crisi. Poi c'è il problema del rischio drago e delle sondazioni dovute ad altri fenomeni che riguardano il reticolo idografico ma lì stiamo già lavorando con gli enti competenti, ci sono dei progetti sul tavolo. La prossima settimana c'è un incontro con il genio civile per definire chi farà e come farà gli interventi perché sono più interventi sulla zona di Via Romana perché anche quella ovviamente come sappiamo è una zona molto vulnerabile da questo punto di vista.